... Ed eccoci in compagnia di Gian Battista Gabriele, questa imbarcazione arancione che colpiva, ha colpito subito anche perché è molto appariscente, Jolly Drive e Albatro International, due nomi importanti soprattutto nel mondo della nautica da di Porto che da tanti anni hanno dimostrato di essere sempre un passo avanti rispetto ad altre realtà, abbiamo visto come oggi per esempio una gara dove contava molto il mezzo, tutto il connubio, il mezzo, le trasmissioni, la meccanica, l'elettronica perché una gara come questa veramente se non si ha un mezzo che è a posto in tutto non si finisce. Sì, è vero, è proprio così, abbiamo abbinato le trasmissioni di superficie Jolly Drive dove io sono il titolare dell'azienda, su un mezzo di Simone Cesate, Albatro International, una carena molto performante che è abbinata alle trasmissioni, devo dire, veramente dà il massimo. Noi con questa barca di 4.600 kg e due motori da 440 cavalli raggiungiamo i 90 miglia. Ricordiamo che le altre imbarcazioni con cui oggi vi siete confrontati ne hanno il doppio, no? Perfetto, barche che hanno il doppio dei cavalli, chiaramente sono più veloci ma non di 20-25 miglia. Voi siete arrivati pochi secondi dopo che è arrivato il primo. Perfetto, quindi questo vuol dire che una buona carena, un buon accompiamento, carena trasmissioni, motori, vuol dire fare un mezzo veramente performante. Lo spieghiamo poi per quanto riguarda proprio il di Porto. Performante molti pensano, ah così si ottengono i 99, i 95, i 100, no? Qua si parla anche di performante inteso come sfruttare al meglio la motorizzazione anche a bassi regimi. Perfetto, è infatti, è proprio quello che vogliamo dimostrare. Una barca, qui una barca attirata diciamo per fare le corse. Estrema. Estrema, ma facciamo applicazioni su barche da di Porto dove con pochi cavalli comunque facciamo delle velocità importanti? Per essere chiari, se io su un'imbarcazione qualsiasi monto una motorizzazione dentro fuori bordo ho determinate prestazioni. Se vado a utilizzare le trasmissioni di superficie con la stessa motorizzazione installata, io già di base ottengo che posso, uno, raggiungere velocità superiori a quelle che raggiungevo, due, decidere di viaggiare a 25 nodi con meno giri, meno cavalli utilizzati, quindi un consumo ridotto. Perfetto, infatti diciamo che abbassiamo i consumi di un 20-25% perché con le trasmissioni di superficie si riesce ad avere proprio un 20% in più a parità di potenza installata di prestazioni. Ma a parte la prestazione e il consumo è che le trasmissioni danno un'affidabilità esagerata con fronte ad altri mezzi. Sono soggette a meno problemi. A meno problemi, meno manutenzioni, è chiaro. Oggi contava moltissimo perché abbiamo visto come sia impegnativo 100 miglia, 120 miglia percorse a tutta velocità perché qua il test era proprio quello, non hanno ceduto nulla, la barca è arrivata. La barca è arrivata e devo ringraziare a Simone Cesati perché ci ha fatto un mezzo veramente performante e molto affidabile perché con questo mare chiaramente si prendono delle botte esagerate però devo essere sincero la barca non ha mai ceduto. Per voi piloti il comfort in questo caso viene messo ovviamente a dura prova perché a 100 nodi o 90 nodi non è che si sta viaggiando piano quindi se la carena non è studiata come deve essere studiata perché deve regalare sicuramente, deve essere molto generosa nelle prestazioni ma al tempo stesso non deve neanche stressare l'equipaggio altrimenti voi in fondo non ci arrivate. Infatti, è una carena che è molto veloce ma devo dire si presta molto bene con queste condizioni di questa mattina che comunque non c'era mare molto mosso però a quelle velocità come hai detto te chiaramente si viaggia a 90 miglia quindi le botte si prendono e si prendono forte però abbiamo dimostrato che comunque in un'ora e 25 abbiamo fatto 115-120 miglia di navigazione. Massimo Lippi ha sottolineato come lui ha fortemente voluto questa gara perché vorrebbe un ritorno della canteristica e ovviamente di tutte queste aziende che lavorano attorno alle imbarcazioni per raggiungere, per far sì che poi la ricerca continui nel discorso del diporto, cioè la motonautica deve essere come la Formula 1 automobilistica un banco di prova come lo è stato per oggi anche per Jolly Drive per sviluppare nuove soluzioni per testare quelle esistenti, per migliorarle ma non solo per la motonautica e il nodo in più ma soprattutto nel mondo della nautica da diporto. Assolutamente sì, diciamo che fare questo per noi a parte chiaramente far girare il nostro nome della nostra azienda ma vogliamo proprio dimostrare che sia l'imbarcazione chiaramente ci tengo a dirlo, il cantiere italiano e sia le trasmissioni chiaramente italiane hanno un'affidabilità molto estrema insomma quindi se sulle gare dove le condizioni, dove è tutto molto stressato Lì siamo all'estremo, no? Siamo all'estremo e non abbiamo problemi fortunatamente perché tutto è fatto a regola Infatti ecco, volevo arrivare che facciamo questo anche per dimostrare proprio l'affidabilità del prodotto Certo, come piloti voi puntate sempre al risultato finale che è il podio ma nel caso invece di Jolly Drive e quindi quando togliete il casco e tornate a essere gli imprenditori Jolly Drive per voi è più importante, più che il risultato finale è il test che ha dato quelli che sono i numeri che voi volevate cioè avere i risultati, il riscontro di quello che è stato il lavoro che è un lavoro che dura da tanti anni e che continua a sviluppare queste soluzioni che poi vengono presentate sul mercato Perfetto, è proprio così Tra le altre cose adesso abbiamo sviluppato trasmissioni molto più grandi abbiamo fatto delle applicazioni su barche da 90 piedi con motori da 3.000 cavalli quindi l'azienda sta crescendo, ci stiamo allargando col prodotto speriamo solo che questo mercato vada avanti e si riprende Però io credo ancora che il lavoro che voi svolgete, le aziende vere, il vero Made in Italy tutto questo studio, questa ricerca, queste soluzioni innovative magari in Italia oggi si soffre un attimino, in Europa sicuramente non stiamo vivendo un bel momento però c'è un mondo intero, c'è una vetrina mondiale dove anche oggi abbiamo dimostrato con voi e con il vincitore della gara, con Marco Pennesi un'altra realtà del Made in Italy che ha dimostrato insomma avete dimostrato come le nostre soluzioni sono ancora poi sulla cresta dell'onda quindi il mondo probabilmente potrebbe essere uno sbocco per il vostro lavoro che ricordiamo è un lavoro importante, un lavoro che richiede molti budget per la ricerca Sì, io sono 14 anni che faccio questo lavoro e devo dire che lo faccio con la passione dove lavoriamo tantissime ore, non guardiamo sabato e domenica per sviluppare i prodotti penso perché noi italiani diciamo siamo un po' fatti così, si fanno le cose con il cuore speriamo che di questo saremo premiati insomma Io toglierei comunque noi italiani, alcuni italiani perché bisogna cominciare a distinguere il Made in Italy di cui possiamo vantarci nel mondo siete voi e non sono così tante realtà ci sono realtà del Made in Italy, parliamo del settore nautico come in tutti gli altri settori che meritano di avere l'applauso di tutti gli italiani ma è giusto dire non è tutto oro quello che luccica quindi benvengano Jolly Drive, benvenga Albatro con Simone Cesati che ha dimostrato negli anni di saper fare le barche però non generalizziamo, non è che sono tutti, basta essere in Italia un italiano non vuol dire essere Simone Cesati o essere Jolly Drive, questo io ci terrei a sottolinearlo ce ne abbiamo, abbiamo delle belle realtà però abbiamo anche realtà che magari si vantano un po' troppo di questo Made in Italy tanto perché siamo in Italia è vero, comunque finisco con ringraziare Simone Simone l'avete sentito poi? non l'ho sentito perché adesso comunque lo chiamo sicuramente vorrà sapere com'è andata la gara voglio ecco ringrazio Simone che ci ha messo abbiamo speranza di vederlo tornare sulla barca da corsa perché sappiamo che è un po' che non metta il casco lui ha tanta voglia di fare questo spero che magari ecco l'anno prossimo in qualche occasione in qualche occasione viene a bordo 100 miglia del lago di Como no? eh magari magari allora lasciamo questa parentesi speriamo di vedere Jolly Drive con Simone Cesati a bordo alla 100 miglia storica 100 miglia del lago di Como tra l'altro il cantiere Luce e la Popola e voi avreste una grande vetrina perché lì insomma la motonautica è di casa bene grazie grazie a non solo male ci vediamo arrivederci ciao Gian Battista ciao 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 Grazie. Grazie.